Il messaggio è innanzitutto rendersi protagonisti dei programmi che stanno la base delle elezioni e quindi pensare insieme a quali sono le priorità. L'altra cosa è di non dimenticarsi mai che le persone che ci rappresentano hanno credibilità che in un paese, in una città così, è consolidata dalla loro storia. Se vuole il messaggio poi è mediato da altri aspetti perché io sto presentando un libro in cui cerco di dire che la nozione quantistica e relativistica del mondo aiuta a migliorare il mondo e non a peggiorarlo. Grazie a lei.